Oggi parliamo di Model 3 Ludicrous e in particolare del suo software e poi la conferma della nuova visualizzazione. A tra poco! Bentornati all'ampi di Tesla. Sembra davvero che siamo agli sgoccioli per la presentazione della nuova Model 3 Performance, quella che ormai viene chiamata Model 3 Ludicrous per i vari indizi che abbiamo trovato un po' qua e là. Allora intanto vi faccio vedere, l'avevamo già visto ma sempre un po' di sfuggita oppure smontato dall'auto. Vi faccio vedere il sedile. Ecco qui come risulta il sedile montato sull'auto, in particolare sullo sfondo. Questo è quello passeggero. Sullo sfondo si vedono anche dei cerchi che sono senza i copricerchi aero. Secondo me sono molto belli senza i copricerchi. Comunque sì, ecco questo era il sedile traforato. Sembra molto più avvolgente. Insomma un sedile sportivo. E come notate sotto il poggiatesta, come abbiamo già visto, c'è il simbolo appunto Ludicrous. Ma ora vediamo qualche immagine rubata di un video dello schermo della nuova Model 3. E ci sono alcuni aspetti veramente veramente interessanti. Io ho preso degli screenshot per parlarne appunto e farvi vedere le cose più interessanti secondo me di questo video. Allora intanto vediamo la schermata, diciamo quella software. E vediamo che effettivamente c'è il simbolo appunto Ludicrous sotto Model 3. E come vedete, quando lui vedete che sta andando a cliccare, c'è la scritta Dynamics. Dynamics è diverso dal menu che abbiamo sul normali Model 3 o Model Y, dove c'è sterzo, pedali eccetera. E Dynamics lo troviamo anche per esempio sul Cybertruck. Ma vediamo un po' che cosa c'è all'interno di questo menu Dynamics. E come potete vedere, partendo dall'alto, allora intanto abbiamo le tre accelerazioni. Chill, Sport e Insane. Non c'è Ludicrous. Questo ovviamente è ancora, probabilmente ancora un software sperimentale, solo per gli sviluppatori. Chissà se poi ci sarà magari il Dragstrip Mode come sulla Plaid o qualcosa del genere. Comunque per ora c'è Insane come massimo, che è lo stesso livello di accelerazione, diciamo così, che c'era sulle SX, le P90D, P100D, insomma quelle pre-refresh. Poi è uscito Ludicrous e poi è arrivato Plaid. Quindi per ora Insane. Poi, se guardate più in basso invece, Ride & Handling, che è il menu sotto, vedete che c'è Standard e Sport. Allora questo mi fa pensare, ecco l'altra conferma, che ci siano le sospensioni a controllo elettronico. O comunque un qualche tipo di controllo per quanto riguarda l'assetto della macchina. Allora dubito che ci siano le sospensioni pneumatiche, infatti non ci sono neanche nel menu, come per esempio ci sono su SX, però ci deve essere un qualche tipo di controllo appunto delle sospensioni, cosa che avevamo già ipotizzato. Poi andando un po' più in basso abbiamo, vabbè, la gestione dello sterzo, quindi c'è Comfort, Standard e Sport, e questo c'è in tutti i modelli, il Track Mode, esattamente come in tutti i modelli Performance, ma ora c'è una cosa estremamente interessante. Perché andando più in basso, allora, come vedete ci è spuntato lo Smart Shift. Allora che cos'è lo Smart Shift? È quel sistema che è andato a sostituire la leva del cambio, quindi non c'è più la leva dietro al volante per inserire le marce, ma si fa tutto tramite il padone. Perché Smart Shift? Perché quando noi abbiamo la cintura allacciata, le portiere chiuse e premiamo il freno, la macchina in automatico inserisce la marcia che reputa più corretta. Quindi se abbiamo magari un ostacolo dietro, metterà la marcia avanti, se abbiamo un ostacolo davanti, metterà la retro. Se non abbiamo nessun ostacolo intorno, vede in base a come abbiamo parcheggiato, insomma, e decide avanti o indietro. Devo dire che ci prende per il 95% dei casi, quindi non si tocca mai il cambio effettivamente per partire dal parcheggio a drive oppure reverse retro. E questo ce l'abbiamo già su Model S, Model X refresh e su Model 3 Highland. Ma se guardiamo sotto, c'è un altro menu che si chiama Auto Shift Between DR, che sta per drive reverse. E poi tra parentesi c'è scritto dev only, quindi è una funzione che immagino sia solo per gli sviluppatori, developers only. Allora, in che cosa consiste? Qui ci dice che cambia automaticamente marcia tra avanti e indietro. E questa è una cosa che già mi aspettavo, perché come sapete Tesla punta ad avere meno input possibili da parte del guidatore. Che cosa significa? Attualmente, ripeto, con lo Smart Shift premo il freno e lei mette la marcia più adeguata. Se devo fare una manovra, però, comunque devo sempre fare lo swipe avanti e indietro sul padrone. Cioè, vado avanti quando devo metterla retro, premo il freno, vado indietro, eccetera, eccetera. Con questa funzione, immagino che Tesla abbia trovato il modo di capire quando io voglio fare manovra. Non è una cosa così difficile o così assurda. Probabilmente lo sta ancora affinando. Come funzionerà? Io magari per entrare in garage devo fare due o tre manovre, vado in retro, per esempio, premo il freno, magari la macchina vede che è effettivamente dietro all'ostacolo, e in automatico mi mette la marcia avanti. Quindi io non devo più neanche toccare il padrone. Non vi preoccupate, perché comunque già con lo smart shift viene fuori un freccione enorme che ci indica la direzione, quindi non c'è, diciamo, dubbio su quale marcia abbia inserito. Però effettivamente va a togliere un ulteriore input che noi diamo al padrone. E credo che, indipendentemente dalla Model 3 Ludicrous, questa funzione arriverà sicuramente su SX Refresh, ma anche su 3 Highland. Io spero, spero vivamente, che lo smart shift con questa funzione arrivi anche su tutte le altre auto, perché, secondo me, salire in macchina, premere il freno e avere la marcia già innestata è una gran comodità. Comunque, molto interessante questo, diciamo, questo video rubato che ci ha dato questo spunto, secondo me, molto utile per capire che cosa arriverà in futuro. Parlando sempre di futuro, molto molto imminente, proprio ieri vi parlavo di quell'aggiornamento che, quantomeno negli Stati Uniti, per ora rilasciato negli Stati Uniti, 2024.2.11 ha migliorato, insomma, il parcheggio automatico, ma la versione 12, quindi 2024.2.12, va a introdurre anche una nuova visualizzazione. Ieri eravamo rimasti sul vago perché non avevamo le note di rilascio, ecco che abbiamo le note di rilascio e abbiamo una conferma, secondo me, perché le note di rilascio dicono che nella schermata di guida, quindi non di parcheggio, attenzione, di guida normale, la visualizzazione è stata migliorata ed include molti più dettagli. Ovviamente sotto dice che comunque è una rappresentazione che dobbiamo guardare la strada, eccetera, eccetera. Quindi, forse ci siamo, finalmente la visualizzazione della beta viene rilasciata a tutti. Ora, speriamo che arrivi anche in Europa, non vedo perché non dovrebbe arrivare. Posso dirvi una cosa? Veramente una gran cosa. E se arriverà, ora io lo so perché l'ho usata per tanto tempo, ma vi renderete conto davvero di che cosa vede la macchina. Spero davvero che arrivi presto. E ora un paio di saluti e ringraziamenti. Comincio con Yuri, anche lui un assiduo supporter del canale. Grazie mille Yuri e mi ha scritto Ciao Fabrizio, questo supporto per te e per il tuo lavoro e per la bellissima mattinata di sabato. Si riferisce al raduno di Livorno, dove ho avuto la possibilità di conoscere una bella realtà e tante belle persone. Grazie di avermi accettato. Ma qui non si accetta nessuno, chiunque può venire. Comunque grazie mille davvero Yuri. E poi un ringraziamento anche a Federico, anche lui ha voluto supportare il canale. Non mi ha scritto niente, mi ha scritto una mail con un paio di domande. Vorrebbe mettere il badge SpaceX dietro la macchina. Secondo me è magnifico. Io lo volevo mettere quando avevo la X negli Stati Uniti. Vabbè. Comunque parlando di X, ormai finché ce l'ho con suetudine. Dai, finita la puntata. Chiudo la Falcon. Eccola qua. Fatemela godere finché c'è. Eccola. Perfetto. E me la godo finché c'è. Poi due giorni ancora. Poi la riconsegno. Questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio come sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao.